Ben ritrovati qui su F1 in generale dopo la giornata del sabato del Gran Premio di Emilia Romagna di Italia sul circuito di Imola. Vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati a tutte quante le ultime novità sulla Formula 1 e soprattutto per vedere queste bellissime analisi che facciamo dopo il venerdì, sabato e domenica di ogni Gran Premio del campionato di Formula 1. Quest'oggi abbiamo visto una delle qualifiche secondo me più belle degli ultimi tre anni, più emozionanti e con più variabili soprattutto perché avevamo tantissimi piloti che stavano lì davanti e altrettanti piloti che cercavano comunque di fare la differenza non proprio nei top team. Vediamo come Racing Bulls ha fatto una grandissima prestazione in confronto a tutti quanti i Gran Premi precedenti. Hanno fatto veramente un ottimo salto in avanti. Salto in avanti spettacolare che ha fatto anche McLaren come abbiamo già visto a Miami ma si riconfermano un'altra volta qui a Imola. Ma comunque andiamo per gradi perché stamattina prima della qualifica come sempre c'è stata le prove libere 3. Prove libere 3 che servivano a Red Bull per cercare di rimediare un po' al pastrocchio che era stato fatto nelle libere del venerdì. E così hanno fatto comunque. La macchina non era perfetta soprattutto per Perez, infatti abbiamo visto come si è anche uscito causando una bandiera rossa proprio a due minuti dalla fine per un problema che si sono portati dietro sia per il venerdì sia anche per poi le qualifiche del sabato. Loro vanno a prendere i salsicciotti della variante alta o come è stata rinominata la curva Cresini in modo molto aggressivo e la macchina non risponde nel migliore dei modi, è molto dura e rimbalza tanto all'atterraggio. Ed è questo che comunque fa perdere il controllo alla macchina a Perez e lo fa entrare nel muro. Non è stato l'unico a commettere un errore, infatti anche Fernando Alonso all'uscita della rivazza 2 è entrato nel ghaione, un errore classico che abbiamo visto fare questo fine settimana però è finito in una maniera un po' diversa. ha perso la macchina e anche lui è entrato nel muro facendo molti danni. Comunque poi i meccanici sono riusciti a sistemare la vettura per dargli la possibilità di girare nelle qualifiche anche se non ha fatto una bella qualifica sicuramente è anche figlia di questo errore che non ha permesso al team di rimettere a posto al 100% la macchina. Infatti comunque nella prima sessione delle qualifiche rifà un altro errore al tamburello, entra molto forte sulla ghiaia e probabilmente va a danneggiare il fondo. Danni che poi non gli hanno permesso di entrare già in Q2 nella qualifica, quindi una qualifica totalmente da buttare per Alonso. Prova liberaterina nella quale non abbiamo visto alcun tipo di passo gara, è stata usata da tutti quanti per provare a ottimizzare la qualifica. Qualifica che ha visto esclusi dalla prima sessione Logan Sargent, Alonso, Magnussen, Joe e Bottas. Un'altra giornata e un'altra qualifica veramente brutta per la Sauber. Continuando a leggere la classifica sempre partendo dal basso, troviamo in quindicesima posizione Gasly, Albon che un'altra volta fa una grandissima differenza con questa macchina, Stroll in tredicesima posizione o con dodici Perez undicesimo che è stato il primo grande colpo di scena di questa qualifica. Probabilmente anche Reduce degli errori che sono stati commessi nella prova libera 3 e quindi l'incidente, non è riuscito a mettere insieme un ottimo giro, anche perché comunque nella variante alta, variante Cresini, ha commesso il solito errore andando a saltare tanto sul salsicciotto della curva a destra e quindi perdendo tantissimo tempo in uscita. E perché Hülkenberg è riuscito a girare più forte del messicano? Ora, Hülkenberg in Q3 ha fatto un tempo più lento rispetto alla Q2, però comunque è giustissimo andare a vedere il tempo più veloce che abbia fatto Hülkenberg in tutta la sessione di qualifica, che è stato appunto il tempo della Q2. È stato di un decimo e mezzo più veloce di quello di Perez e dal grafico, dalla telemetria, riusciamo a vedere anche i punti cruciali dove Hülkenberg ha veramente surclassato Perez sulla guida. In questo grafico qua, in questa linea qua, vediamo il distacco tra i due, tra Hülkenberg e Perez. Perez è sempre in blu e vediamo come Perez ha perso tantissimo sulla variante alta, sulla variante Gresini. Come vi dicevo, vediamo qua come ci siano stati dei sussulti, delle incertezze da parte di Perez andando a saltare sui cordoli. Questa è la velocità, ha portato comunque una velocità molto più lenta all'interno della curva e Hülkenberg è riuscito ad essere molto più costante. Cosa che vediamo anche dal grafico dell'acceleratore. Hülkenberg frena un pochino prima, riesce a impostare meglio, a entrare meglio e quindi poi ad avere un'uscita molto più veloce che è questa qua. Quindi riesce a mettere il piede sull'acceleratore molto prima di Perez e questo ha fatto la differenza sulla variante alta. Lo possiamo notare anche dal freno. Perez ha un'incertezza sul freno molto più alta di Hülkenberg. Infatti la linea blu è molto più alta rispetto a quella bianca di Hülkenberg sul freno. E in sostanza, AS è riuscito a portare tantissima velocità in più nelle curve rispetto a Perez. Anche qui vediamo che siamo nell'ordine della Tosa. Ha una velocità molto più alta Hülkenberg, ha una velocità minima più alta. Velocità minima di Hülkenberg 105 km rari, velocità minima di Perez 97. Che è davvero tanto, si vede anche la differenza dello stile di guida dai due. In quanto Hülkenberg frena prima e comunque riesce poi a avere un'uscita molto migliore e molto più pulita rispetto a quella di Sergio Perez. Poi un Nico Hülkenberg che riesce a entrare in Q3 e alla fine dei giochi piazzare un'ottima decima posizione. Daniel Ricciardo nono, quindi in questo caso entrambe le Racing Bulls sono riuscite a entrare in Q3 e hanno fatto veramente un lavoro magistrale. C'è stato un momento durante la Q2 dove abbiamo visto addirittura Tsunoda salire in seconda posizione. Sta dimostrando veramente tanto di saper guidare queste macchine, di interpretare molto bene questa macchina e sta venendo fuori veramente lo Tsunoda che dovrebbe venire fuori già. Comunque potrebbe essere un papabile sostituto di Perez l'anno prossimo. Chi è bocciato un'altra volta in queste qualifiche è sicuramente stata Mercedes. Che troviamo Lewis Hamilton a panino tra le due V-Carb, Ricciardo dietro e Tsunoda davanti, che non è riuscito assolutamente a performare meglio di così. Ed è veramente un peccato, anche perché da Tsunoda c'è pochissimo distacco, ci sono 40 millesimi circa. Ha fatto un po' meglio il compagno di squadra George Russell che è andato a mettersi in sesta posizione con un distacco di tempo di due decimi e mezzo rispetto al compagno di squadra e subito sopra troviamo un Carlos Sainz che si è piazzato in quinta posizione con un millesimo di differenza rispetto a George Russell. Che è veramente poco, una cosa che non ci saremo aspettati vista la grande aspettativa che c'era con questa nuova versione della vettura e anche con quello che abbiamo visto nella giornata del venerdì. Ferrari comunque ha da sempre avuto un problema con le gomme rosse e probabilmente si sta anche riproponendo in questo momento. Dopo una McLaren veramente fortissima in ogni ambito e anche un Verstappen che ha messo a posto la macchina dopo la giornata del venerdì, Ferrari non è riuscita a salire oltre il quarto posto con Leclerk in quarta posizione e Norris e Piastri davanti a lui. Sainz che non è riuscito a mettere a posto un ottimo giro, infatti ci sono comunque quasi due decimi e mezzo tra i due compagni di squadra. Distacco anche abbastanza importante che troviamo tra Leclerk e Piastri dove c'è un decimo e mezzo che sarebbe una cosa inaspettatissima almeno dal mio punto di vista. Me ne aspettavo molto più vicini anche se c'è questo problema di Ferrari con la gomma rossa. Poi comunque McLaren è già la seconda gara con la versione B della loro vettura che comunque più esperienza in pista fa sempre bene per aiutare anche gli ingegneri a cercare di mettere a posto la vettura. In prima posizione un'altra volta un sensazionale Max Verstappen che fa una qualifica esagerata. Ora andremo a vedere anche tutti quanti i grafici delle telemetrie però ha fatto un lavoro eccelso. Con il team è riuscito a sistemare la macchina nei punti più critici che ha trovato nel venerdì e hanno portato a casa una pole sensazionale con un tempo velocissimo rispetto a tutti gli altri e totalmente inaspettato. Verstappen è in assoluto il più in forma e il più forte al momento. È veramente incredibile con una guida impeccabile nonostante comunque in rivazza 2 e in rivazza 1 abbia avuto un po' di difficoltà in ingresso e in percorrenza delle due curve è stato ottimo e sensazionale durante tutta quanta la qualifica. Quindi un grandissimo complimenti a Verstappen e a tutta quanta la Red Bull che hanno tirato fuori un altro dei loro capolavori, un'altra delle loro magie. Qui vediamo benissimo la differenza di Hülkenberg e Perez. Ho messo a paragone il tempo veloce di Verstappen e quello di Piastri. La prima cosa che salta all'occhio è che Verstappen ha trovato una scia utilissima che gli è servita a prendere tantissima velocità prima della variante del tamburello. È stato il punto dove ha fatto la maggior differenza. Infatti prima di arrivare alla staccata aveva già una differenza di un decimo e mezzo rispetto a Piastri. Questo è stato cruciale per fare il bellissimo tempo che comunque è riuscito a fare anche se vediamo che in tantissime curve la velocità di percorrenza è molto più alta quella di McLaren. Infatti vediamo come anche nel delta ci sia un in prossimità di questi punti ci sia un riavvicinamento minimo di Piastri da tutte le parti praticamente. Poi ci sono anche delle differenze di stili di guida e di approccio e di interpretazione nella traiettoria ma comunque la differenza di percorrenza di curva c'è e è anche abbastanza marcata. Se di Verstappen andassimo a prendere il giro senza scia vedremo che differenza c'è rispetto al giro con la scia e rispetto anche al giro di Piastri. La linea blu è il giro di Verstappen con la scia e la linea bianca è il giro di Verstappen senza scia e prima della staccata c'è una differenza di ben 4 km rari rispetto al non avere la scia. E diciamo che anche questo è stato una bella fortuna o anche una bravura da parte del team di riuscire a metterlo in pista nel momento corretto per avere questo tipo di scia. Infatti se guardiamo il giro di pole position 1.14.746 contro il giro senza la scia 1.14.869 vediamo che il giro senza scia è un giro più lento di 49 millesimi rispetto al tempo di Piastri quindi probabilmente Piastri avrebbe potuto prendere la pole anche se ricordiamo che in questo momento c'è un'investigazione in corso ai danni di Piastri per un impeding su Magnussen. Vedremo poi come sarà decisa la questione. Ci terrei anche a far vedere la differenza che c'è stata nel giro veloce tra Piastri e Leclerc. Piastri 1.14.820 Leclerc 1.14.970 preciso preciso un decimo e mezzo a favore del pilota australiano dove ha fatto la differenza nella velocità massima principalmente perché vediamo che anche qua prima della curva del tamburello c'è già un decimo di differenza differenza che aumenta ancora di più durante tutta quanta la percorrenza dell'uscita della Tosa fino alla Piratella anche se poi comunque alla Piratella Leclerc riesce a interpretarla meglio e a portare una velocità di percorrenza migliore. Però la trazione di McLaren è stata molto più incisiva in questa fase nonostante comunque dal grafico dell'acceleratore si vede che Leclerc comunque riesce ad aprire un attimo prima ma poi subito dopo Piastri comunque nella seconda parte dell'uscita di curva riesce a dare molta più energia al pedale dell'acceleratore e quindi a prendere più velocità. E qua lo vediamo benissimo come la linea della velocità sia più alta quella di Piastri rispetto a Leclerc. Quindi questa secondo me è stata una delle qualifiche più belle degli ultimi tre anni visto che sono stati tutti quanti abbastanza molto vicini ed è stata molto incerta fino alla fine. Spero che la gara di domenica sia altrettanto interessante proprio come questa qualifica e sono veramente curioso di vedere se Ferrari potrà essere incisiva con il passo e se McLaren potrà replicare quello che è successo a Miami. Anche lei con il passo gara. Sicuramente sarà molto bello vedere partire Perez così indietro perché potrebbe fare una bella rimonta avvicinarsi a Verstappen e vedere quella che è poi l'effettivo passo gara e l'effettiva lotta che c'è tra McLaren, Ferrari e Perez sperando di riuscire a prendere Verstappen. Cosa molto importante è Leclerc è riuscito a conservare una gomma questo perché abbiamo visto nelle categorie minori F2 e F3 esserci state tante safety car e una gomma rossa in più può fare la differenza in questo caso. Quindi sicuramente abbiamo imparato che Ferrari dovrà ottimizzare ancora di più il lavoro con la gomma rossa perché quando si trattava di gomma gialla in Q3 era molto molto competitiva. Non vedo l'ora di vedere la gara domani e non vedo l'ora di tornare qua alla solita ora per commentarla con voi e per dirvi tutto quello che è successo anche a livelli tecnici di passo gara e quant'altro. Quindi io vi aspetto sempre qua su F1 in generale a commentare la Formula 1 scrivete secondo voi chi potrà fare scrivete cosa ne pensate nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi vi raccomando. È stato un piacere ci vediamo alla prossima.